Andremo ad aprire Alfa Saburo. Allora, cominciamo ad aprirlo. Eccolo qua il nostro Saburo Alfa. Se riusciamo a tirarlo fuori, questo personaggio si chiama Saburo. Quindi tireremo fuori Saburo, perché oggi facciamo il video delle maghe, ma poi adesso tiriamo fuori anche la spada, che è un po' più difficile da togliere, tolta. Poi adesso troveremo il volantino e il codice. Vediamo chi c'è. Allora, c'è Palladium, Rodium, Saburo, che è quello che abbiamo trovato adesso, e poi Koga, Crobot, Irgur, Zephyr, Tifon, Icalos, Idros, Taurac e Avoc. Poi ci sono quelli grandi che c'è, Keryon Alfa, Lord Ecclos e Lord Sol, che si illuminano. Poi si illuminerebbe anche Saburo. Poi c'è il nuovo Gornita, che dunque si chiama Elemental Titan. titano, titano, non so come si chiama, però, poi ci sono le Hyper Beast, che sono Gorok e Pyrrhon. Poi dopo dietro ci sono le bustine degli Alfa, il bracciale Alfa e la nave Alfa. E' molto importante il codice che lo sblocchiamo, sblocca Gorniti, dopo viene quello del popolo. Tipo, adesso io Saburo, se però voi volete Idros andrete nel popolo dell'oceano, capito? Però adesso io ne ho due del popolo del magma, o tre, vabbè, quanti ne ho, non mi importa. Però questo è il codice, state ben attenti, c'è sempre questo, i grandi. Invece nei piccoli adesso ve lo faccio. Ecco quello che c'è nelle bustine, l'abbiamo già scaricato, però così per fare un esempio. Qui diamo bene il nostro saburo, mettiamoli la spada, se ce la facciamo. Mi appoggio qui, prendo la spada, provo ad attaccarla, guardate bene il nostro saburo. Ma potete raggiungere la tapparella che vi facciamo vedere una cosa, va bene, vediamo un'altra cosa. Però questo, guarda, guardate, potete, può muovere le braccia. Questa è la mossa che trovate spesso, capito? E delle volte lo troverete anche così. Allora, lo troverete o così, oppure così. Capito? Ragazzi? Quindi, adesso non riesco a risvoltare la spada, ci sto provando. Ci mette giusto? E quindi il video finisce qui per adesso. Dopo ve ne faremo fare un altro. Ciao!